Nel settimo round del Mondiale Superbike, disputato durante il periodo delle Olimpiadi, Toprak Ratzgatlyoglu ha scritto un'altra pagina di storia, diventando il pilota con il maggior numero di vittorie consecutive nella categoria, raggiungendo quota 13. Le gare si sono svolte nel tardo pomeriggio, offrendo uno spettacolo unico con il sole che tramontava all'orizzonte. Garrett Gerloff ha annunciato il suo passaggio al Team Puccetti per la prossima stagione, con un supporto diretto dalla Kawasaki. Durante il weekend hanno corso anche Ivo Lopez, con il Team Petronas Imai Honda, e Hafiz Sharin, tornato in pista con la Ducati del Team JDT. Gara 1, la competizione è stata tutt'altro che vedibile, con le Ducati di Petrucci e Bautista che hanno dato del filo da torcere a Rasgatlyoglu, tenendolo sotto pressione. Anche Alex Lohs e Vandermark si sono fatti notare, mentre Bulega è apparso sottotono. Un errore alla partenza ha penalizzato Bautista, togliendogli la possibilità di lottare fino alla fine. Nonostante i dolori al braccio, Petrucci ha dimostrato una grinta eccezionale. Alla fine Rasgatlyoglu ha preso il comando, vincendo la gara, mentre Gerloff ha conquistato un buon quarto posto. Super pole race in questa gara, Razzgatlyoglu ha preso subito il comando con uno spettacolare sorpasso alla curva 1. La lotta per il podio ha coinvolto Petrucci, Vandermark e Alex Lohs, con quest'ultimo che è riuscito a conquistare il terzo posto con un sorpasso decisivo negli ultimi istanti. Le Ducati ufficiali di Bulega e Bautista non sono riuscite a inserirsi nella lotta per il podio. Rea ha faticato ancora una volta a tenere il passo dei primi. Garadu, una delle gare più combattute della stagione, ha visto Rasgatlyoglu lottare duramente per portare a casa la vittoria. Le Ducati di Bautista e Bulega hanno messo a dura prova il pilota turco, ma errori strategici hanno impedito loro di conquistare il primo posto. Bautista, troppo aggressivo, ha perso l'opportunità di vincere, mentre Bulega, troppo conservativo, non ha sfruttato al meglio la potenza del suo motore. Alex Lohs ha consolidato la sua posizione in campionato con un'altra solida prestazione, mentre Iannone ha riscattato la caduta del giorno prima con una buona gara. Il prossimo round del campionato si terrà a Magnycours, in Francia, dal 6 all'8 settembre. Il prossimo round del campionato si terrà a Magnycours.